Siamo a un semaforo, la vita è arrivata, perché? Perché siamo a un semaforo? Perché gli arettini hanno piazze bellissime e vivono intorno al semaforo, che è questo. Perché? È tutto qui, è il sunto dell'espressione, il fulcro, il fulcro della razza. E tu cosa hai preparato per i tuoi manifesti? Il fulcro, la difesa della razza, italianisticamente parlando. A volte, per legittima difesa, spariamo, voce del verbo sparire, io sparo, tu spari, noi spariamo. Noi spariamo, voi sparite e si spariscono. Questa a che cosa è riferita, Pippo? Alla gente che se ne va dall'Italia? Io lo sai come l'ho interpretata, questi pensionati che se ne vanno dall'Italia, che spariscono, se no morirebbero. C'è anche questo senso qui. Cioè tu riesci a fare di un ossimoro un ossario. Un ossario!